Non utilizziamo queste necessità di democrazie per introdurre elementi tali che a nulla servono per portare avanti il principio che lei ha saldato. Per questo io le chiedo, a nome dell'articolo 77 della Costituzione avete fatto già 34 decreti legge con 34 fiducia. Sta per andare in galera una persona che a me personalmente ha diffamato molte volte, ma che io tutto voglio meno che vederlo in galera. E credo che qualsiasi cittadino italiano ritenga urgente evitare la galera per un reato d'opinione, anche se si chiama saluto. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3 2494 dell'On. Polidori concernente misure per sostenere le aziende in difficoltà, con particolare riferimento all'esercizio della delega legislativa prevista dallo Statuto delle Imprese in materia di ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione. L'On. Polidori ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, Onorevole. Grazie Presidente e Gregio Ministro. Il quesito che le sottopongo riguarda un argomento che sta a tutti particolarmente a cuore e riguarda le PMI e ritardi di pagamento. Un killer che dall'inizio della crisi le sa bene che ha ucciso più di 11.000 aziende. Un terzo, quasi un terzo di queste aziende, il 31% delle aziende che hanno portato i libri contabili in tribunale ed hanno dovuto chiudere, lo hanno fatto per l'impossibilità di riscuotere i propri crediti proprio dalla pubblica amministrazione. È proprio nel tentativo di arrestare questa piaga che sono a chiederle se il Governo è in grado di rispettare il termine del 15 novembre per l'esercizio della delega previsto dallo Statuto delle Imprese che riguarda proprio ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione e come il Governo intenda intervenire per far sì che venga recepita finalmente, sottolino finalmente, la direttiva 2011-7 dell'Unione europea in materia proprio della lotta contro ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente... Non avevo il giacchetti. Prego. Io scusi. Nell'ambito delle iniziative del Governo finalizzate al rilancio della competitività del Paese, si annoverano un insieme di norme riconducibili a diversi provvedimenti normativi finalizzata ad assicurare liquidità alle imprese attraverso l'esigibilità dei crediti delle stesse nei confronti della pubblica amministrazione e il coinvolgimento del sistema bancario. Non sto qui a ricordare il Fondo Centrale di Garanzia, l'IVA per Cassa. Parliamo specificatamente su questo che è un tema molto importante che lei solleva. Lo scorso 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di iniziative, per altro citate dall'onorevole interrogante, che comprende quattro decreti. Due decreti di certificazione che riguardano appunto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle amministrazioni centrali e uno per le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti di servizio sanitario nazionale, che obbligano tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese. Un decreto compensazioni, consistente nella possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali e enti di servizio sanitario nazionale con le somme dovute iscritte a ruolo. Terzo punto, cioè quarto decreto, un decreto che prevede una garanzia pubblica del Fondo centrale nazionale.